Nuovo canonico appuntamento mensile con quella che è la rubrica nei consigli dell'home video riguardanti ovviamente come sempre faccio le uscite in dvd, blu-ray, steelbook, tutto quello che volete però del mese che sta finendo o che è appena finito a seconda di quando uscirà questo video quindi il mese di agosto però prima di iniziare io vi ricordo innanzitutto di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto perché così mi aiuterete a farlo crescere ancora di più attivate la campanella così non vi perderete nessuno dei prossimi contenuti ed infine se il video vi sarà piaciuto io vi invito a lasciare un like a commentarlo con le vostre opinioni sui film che vi andrò ad elencare e poi chiaramente condividetelo ovunque vogliate date poi un'occhiata in descrizione perché troverete altri modi per supportare il canale soprattutto un link amazon da poter utilizzare per fare qualunque vostro acquisto ma detto questo io direi di immergerci in quella che appunto è la nuova mensile puntata riguardante i consigli dell'home video e come vi ho detto prima io vi andrò ad elencare come sempre film che sono usciti in dvd e blu ray nel mese di agosto in questo caso perché perché in questo modo avrete già la possibilità di poterli trovare o nei negozi fisici o negli store online e quindi di poterli eventualmente acquistare sono dei film che sono anche usciti in alcuni di questi casi anche nelle sale durante i mesi scorsi però magari alcuni di questi io non ho avuto la possibilità di vederli quindi non posso parlarne nel dettaglio oggi in particolar modo vi andrò ad elencare 7 film usciti in home video durante il mese di agosto chiaramente ce ne saranno alcuni in grado di interessare un determinato tipo di pubblico altri invece no, ce ne sono alcuni che secondo me sono da tenere d'occhio a prescindere però ovviamente come sempre dico anche in questo caso non è una classifica, non è una top non voglio andare in ordine di importanza andrò in ordine sparso per poter consigliare sia a voi ma fondamentalmente anche a me stesso da collezionista quale sono tutta una serie di film appunto da in qualche modo attenzionare appunto da mettere nel mirino di quello che è il nostro obiettivo allora innanzitutto voglio iniziare con un film che in questo caso non ho visto e ve lo devo dire non credo che vedrò a breve anche perché dovrei recuperare qualche capitolo precedente sto parlando di Fast X chiaramente il decimo capitolo di quella che è la saga di Fast and Furious che ormai va avanti da molti anni quello che dovrebbe essere il terz'ultimo capitolo di una saga che poi si concluderà nei prossimi anni con l'undicesimo e il dodicesimo capitolo perlomeno questo è quello che hanno detto un film che tra l'altro è stato anche in maniera imprevista un grande flop al box office perché è costato tantissimo ma ha avuto degli incassi purtroppo per i produttori ovviamente insoddisfacenti io ripeto non l'ho visto al cinema e non credo che lo acquisterò neanche in appunto in un video male che vada attenderò che la saga si concluda per poterlo acquistare magari in qualche cofanetto che verrà realizzato di qui ai prossimi anni però ecco volevo consigliarvelo perché magari fra di voi potrebbe esserci qualcuno che se l'è perso in sala non ha avuto ancora la possibilità di vederlo vorrebbe appunto anche acquistarlo lo potete trovare quindi già in DVD e anche in Blu-ray quindi primo consiglio di questa puntata dedicata all'on video Fast X sempre durante il mese di agosto è uscito anche il quarto capitolo di un franchise d'animazione che anche in questo caso non ho più seguito con costanza nel corso degli anni ed è Hotel Transylvania 4 io credo di avere visto i primi due capitoli di questa saga di questo franchise e tutto sommato non mi erano neanche dispiaciuti particolarmente chiaramente bisogna un minimo contestualizzare quello che il prodotto è un prodotto d'animazione quindi indirizzato principalmente ad un pubblico più giovane però i primi due capitoli come vi dicevo non mi erano neanche dispiaciuti più di tanto per quanto non li consideri sicuramente i migliori film d'animazione degli ultimi tempi erano dei film gradevoli e che quindi posso anche ben capire possano piacere parecchio ad un pubblico più giovane io credo di appunto non aver visto neanche il terzo è uscito anche il quarto quindi volevo consigliarvelo lo potete trovare già appunto dal mese di agosto in DVD e Blu-ray quindi secondo consiglio di questa puntata Hotel Transylvania 4 chiaramente di tutti i film fatemi sapere che cosa ne pensate qualora li abbiate già visti eventualmente senza fare spoiler perlomeno soprattutto di alcuni film magari più rilevanti da un punto di vista della trama però fatemi sapere che cosa ne pensate procediamo poi con un film che fa parte di quello che è il circuito della Midnight Factory ed è un film horror perlomeno così viene descritto tra il thriller e l'horror che purtroppo anche in questo caso non ho visto perché perlomeno nelle mie zone non è che sia stato distribuito non ricordo di averlo visto al cinema devo essere sincero ed è Speak No Evil ed è un film che racconta la storia di due famiglie una danese e una olandese se non ricordo male che si incontrano durante una vacanza in Toscana chiaramente non si conoscono, fanno amicizia e poi finita la vacanza la famiglia olandese invita l'altra famiglia a raggiungerli proprio per un altro periodo di vacanza a casa propria quindi in Olanda, questo succede però una volta arrivati i componenti della famiglia danese si renderanno conto che in realtà i due olandese, credo comunque la famiglia olandese non è proprio chi racconta di essere ecco quindi si manifesteranno tutta una serie di sorprese, tutta una serie di problematiche che non ho voluto approfondire ovviamente per non spoilerarmi il film me ne hanno parlato comunque in termini positivi, me lo hanno consigliato diverse persone quindi è da tenere d'occhio, credo che possa rappresentare uno dei miei prossimi acquisti in maniera tale da poter anche incrementare quella che è la mia collezione dei film targati Midnight Factory quindi vorrei ben capire, vorrei capire di che cosa si tratti chiaramente anche in questo caso senza spoiler ma fatemi sapere la vostra opinione su Speak No Evil perché mi incuriosisce davvero tantissimo passiamo poi ad un altro film che invece ho già recensito qui nel canale qualche mese fa nel momento in cui ho avuto la possibilità di recuperarlo perché è uscito in sale ed è Renfield, un film con Nicolas Hult e soprattutto mi verrebbe da dire con Nicolas Cage nei panni di un divertentissimo, esilarante, straordinario Conte Dracula è un film particolare, sì è un film horror ma che in realtà non si prende sul serio molto divertente, molto cacciarone, però in realtà ci sono dei momenti, delle sequenze anche abbastanza truculente, quindi non è proprio indirizzato agli amanti della commedia ma è pur sempre indirizzato agli amanti dell'horror, però ve lo consiglio non mi dilungo più di tanto, eventualmente recuperate la recensione che ho realizzato all'epoca stiamo parlando appunto di un paio di mesi fa, se non ricordo male di Renfield, un film sorprendente con un altrettanto sorprendente Nicolas Cage e non è una cosa così scontata per quanto riguarda le prove attoriali di questo attore tanto bistrattato e non proprio apprezzatissimo, soprattutto negli ultimi anni c'è da dire quindi Renfield lo potete trovare sia in DVD sia in Blu-ray, già a partire dal mese di agosto procediamo poi con un film che anche in questo caso non ho ancora avuto la possibilità di guardare ed è novembre, i cinque giorni del Bataclan, un film con Jean Dujardin protagonista principale e non fa altro che raccontare un tragico evento realmente accaduto qualche anno fa quello che appunto è stato l'attentato terroristico proprio al Bataclan un evento terroristico che ha scosso chiaramente tutto il mondo ripeto, il film io ancora non l'ho recuperato, non ho avuto la possibilità di guardarlo né al cinema e ancora neanche recuperarlo, non so se sia presente o meno in qualche piattaforma di streaming ma comunque poco importa, durante il mese di agosto, novembre, i cinque giorni del Bataclan è uscito proprio in home video, sia in DVD credo anche in Blu-ray ma sicuramente in DVD, quindi potete eventualmente acquistarlo anche qui fatemi sapere che ne pensate nel caso in cui già doveste averlo visto quindi quinto consiglio esatto di questa carrellata novembre, i cinque giorni del Bataclan con Jean Dujardin procediamo poi con un altro film che purtroppo ancora mi manca anche di questo ne ho sentito parlare davvero in maniera più che positiva ed è Asbestas, un film spagnolo che tra l'altro credo abbia vinto anche diversi premi nelle varie rassegne cinematografiche spagnole un film che racconta la storia di una famiglia che va a vivere nella Galizia se non ricordo male, non so in che periodo storico c'è da dire e deve fare i conti in qualche modo con la diffidenza delle persone già presenti in quella zona quindi dovendo affrontare anche qui delle problematiche non irrilevanti un film che viene descritto anche qui come un thriller credo abbia delle caratteristiche che rimandino anche all'horror però non ho voluto in alcun modo approfondire ulteriormente anche se attendo anche in questo caso i vostri pareri senza spoiler per farmi capire che cosa ne pensate è un film che mi incuriosisce purtroppo, ripeto, non sono stato in grado di guardarlo al cinema ancora non l'ho recuperato neanche attraverso lo streaming o attraverso l'on video però è un film che è uscito in DVD e anche in Blu-ray durante il mese di agosto quindi lo segnalo a voi fondamentalmente lo sto segnalando anche a me stesso perché credo sarà uno dei prossimi acquisti scusate, la telecamera si è mosso un pochino e quindi Asbestas, sesto consiglio appunto di questa carrellata ed infine voglio chiudere con un consiglio finale che in realtà è duplice perché? Perché il consiglio finale è rappresentato da I Guardiani della Galassia volume 3 quindi il terzo e definitivo capitolo di quella saga diretta da James Gunn e che secondo me risulta essere ancora oggi la punta di diamante di un Marvel Cinematic Universe che a me, come sempre dico, non è che incuriosisca particolarmente però la presenza di James Gunn la presenza dei Guardiani della Galassia questi film diretti in maniera secondo me splendida da un regista che, ricordiamolo, ormai è passato alla concorrenza la DC mi permette di consigliarvi questo terzo capitolo ma, come vi dicevo poco fa, è un consiglio duplice perché? Perché sempre durante il mese di agosto contestualmente proprio all'uscita di questo terzo capitolo è uscito anche il cofanetto contenente tutta la saga dei Guardiani della Galassia ed infatti, siccome tra l'altro ancora a me mancavano anche i primi due capitoli nella mia collezione ho voluto cogliere la palla al balzo e invece di acquistare solo il terzo ho acquistato il cofanetto tra l'altro con un, come dire, con un prezzo finale che non è neanche particolarmente eccessivo considerando il fatto che il terzo capitolo è di recentissima uscita quindi potete trovare o il film singolo DVD e Blu-ray oppure anche il cofanetto con volume 1, volume 2 e volume 3 anche qui in DVD e Blu-ray quindi questo è un consiglio duplice quindi in realtà non sono 7 ma 8 i consigli però in realtà il film principale da prendere in esame è appunto volume 3 dei Guardiani della Galassia anche qui fatemi sapere che cosa ne pensate e chiudo davvero in bellezza questa carrellata di consigli con il film di James Gunn chiaramente, ripeto, fatemi sapere il vostro pensiero a riguardo se ci sono film che avete già visto o che avete già acquistato ovviamente fatemelo sapere nei commenti se avete altri consigli riguardanti eventuali possibili acquisti in un video fatemeli sapere perché ovviamente come potete capire li raccoglierò molto molto piacevolmente proprio per andare ad aumentare quello che è il numero di film presenti nella mia collezione quindi ci becchiamo nei commenti vi leggerò e vi risponderò molto molto volentieri io vi ringrazio come sempre per il tempo che decidete di regalarmi guardando i miei video vi ricordo fondamentale iscrivetevi al canale è un gesto rapido e semplice ma per me molto importante perché mi aiuterete a far crescere ancora di più il canale attivate la campanella così non vi perderete nessuno dei prossimi contenuti e infine se il video vi è piaciuto potete sostenerlo lasciando un like commentandolo con le vostre opinioni condividendolo ovunque vogliate e poi date un'occhiata in descrizione perché troverete tutti i miei altri riferimenti social Facebook, Instagram, Twitter, Telegram e il link Amazon da poter usare per fare qualunque vostro acquisto perché voi non spenderete un centesimo in più ma una piccola parte della vostra spesa sarà girata automaticamente da Amazon al sottoscritto noi come sempre ci becchiamo in un prossimo video in una prossima video recensione in una delle tante rubriche che sto girando nel mio canale vi auguro come sempre una buona continuazione di giornata e ci vediamo presto ciao a tutti